Bentornati su Super TV, oggi è il 17 dicembre 2018, un altro lunedì, un'altra settimana che inizia e le iniziamo subito con un Tabata Hollow Rock seguito da un Tabata Hollow Arch e seguito alla fine da un Tabata Side-by-Side Rolling. Dopo questi movimenti di ginnastica, il World Vero e Proprio, un 4-Time con 2000 metri raw, 50 wall ball, 1000 metri raw, 35 wall ball, 500 metri raw e 20 wall ball. Carichi e scalature come al solito sulla grafica qui di fianco. Noi ci vediamo domani, mi raccomando seguiteci su Instagram e buona giornata!